quindi ci siamo ora 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 allora ora 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 già fammi sistemare un attimo qua la computer perché tanto farà cacare l'impostazione che c'è chat a comparsa eccola sì ci siamo ci siamo sta andando prondo computer devi collaborare collaborare rr prondo o quanta musica tolz tolz sono scusi cip ma cazzo sono uno sciocchettaro paura io sai ma se questa cosa mi era sfuggita nelle precedenti live e ma non ho mai rivelato i miei gusti musicali sono stato un discotecaro quello sì mamma mia quanto ero discotecaro plim plom allora ho cambiato il set ho cambiato il set e ho visto nella live si vedrà sbarmellatissimo ma è bello come come gira il mantellino della della cappocchia ok ti sei messo il set di coso di mirra con i pantaloni di drang scude spate sempre uguali poi mi sono messo la il coso dell'aristocratico poi ho potenziato i martelli di drang che mi sembrano parecchi interessanti ma non li userò ancora poi ho potenziato la piramanzia yes poi sono andato nella palude buonasera buonasera signor ambri buonasera 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 adesso sento nelle orecchie cosa stavo dicendo ah sì sono andato nella palude a raccogliere un po' di oggetti credevo di dover andare avanti lì e invece no quindi andiamo andiamo dove dov'è eccolo qua è avanti danzatrice della valle boreale e esatto saliamo la scala quanto ci ho sclerato io su per quella scala lì ero arrivato quasi ad uccidere la signora poi però ci ho ripensato e ho detto no non uccidiamo nessuno ci sarà sicuramente un modo per far scendere quella scala lì ho anche provato a dare fuoco a tutta la cattedrale spaventandomi addirittura perché avevo visto che prendeva veramente fuoco la roda al tempo avevo la catana infusa di fuoco e insomma ho dato un po' di botte in giro per cercare muri invisibili e ho visto che succedevano cose ma poi lei non lo sa perché ci è arrivata a questo punto del gioco ad affrontare la danzatrice della valle boreale però se a inizio gioco uccidevi la signora guardiana del fuoco di stai gran funciazza ti dava subito il gattino e poi ti partiva subito la boss fight della danzatrice ti ritrovi un boss di metà gioco un pochettino inoltrato all'inizio della run ma chi è sta signora? è una guardiana ma ma ho sentito la gare un casino eh anch'io ho sentito lì la gare humbly si vede la live? chi è sta signora? lo sto controllando non si sa c'è solo scritto anziana del santuario in quella del santuario ma delle altre non ti dice nulla non crede sia una riminescenza del guardia di di dranglake perché tutti i cicli adesso in questo in darsol te si sono fusi insieme quindi c'è darsol uno, darsol due, dranglake, long circa vabbè il demon stop però ma come no? cazzo c'è il ponte c'è l'atria c'è l'atria c'è il ponte dopo vol non so pronunciarlo senti quello della var della var boleale quello della valle boreale quello lì il ponte è il ponte di demon soul ah sì non lo so è il ponte che ti conduceva al oh cavaliere della turi ah eh ho capito capito sì eh sì in effetti è un po' brutto da vedere allora apri ma sicuramente non si apre da questo lato darsol ha sempre avuto quel problema eh vabbè o vedo un cavaliere vedo la luce vedo un cavaliere della madonna eeeh a meno che e tra l'altro lei è vestita come una suora mamma mia quanto sono suor suorcipesniaus ma no è bellissimo questo elmo gargoyle che gargoyle ho sentito un verso bruttissimo sembravano la stessa scena di dark souls 2 quando arrivi eeeh dalla peccatrice senza aver fatto prima i gargoyle che senti esatto ah ok ho capito depredo il cadavere di un guerriero sfinito mo io non so se questo è un amico o un nemico so solo che è grosso è un nemico eeeh ho l'elmo io di questi qua ti sei già risposto da solo eh sono i cavalieri della cattedrale possibile sono gli stessi sì esatto cip sono gli stessi elmo da cavaliere della cattedrale ok cazzo bene quindi partiamo eeeh mi caco tu non mi hai visto e tra l'altro sono tossessimi tie vabbè dai di danno te ne faccio dai che te ne faccio di danno dai aia non mi non vedo non vedo niente mi sta massacrando di botte tankard ah eeeh ci pede deve pararsi deve schivare ma guarda eeeh ma te no 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 ma quanto danno bastardo che atta ah sì va bene ah uh no no ma questo è ho fatto per quello era perry non dire questo no va bene aia non posso fare perry lo scudo dai ma smettila certo che non può fare perry lo scudo ma qui mi sta massacrando mi eh sì pure ambi al prossimo video di rocket già un da intimo caricato no mi pare di sì ho già un video pronto lo devo caricare adesso devo mettermi a registrare gli altri perché solitamente ne registro due o tre poi mi monto tranquillamente e li carico quando sono già pronti non so cosa utilizzare però sì togliermi di mezzo il cagnoncino sarebbe l'ideale perché ma devo vederlo sull'ultimo video ho fatto schifo cip sto utilizzando la non spoilery non spoilery qua si rompono queste grate no sto solo dicendo che macchina stiamo utilizzando cip no no è spoiler è spoiler questo si rompe no non è vero allora qua abbiamo una leva guardi che in dark soul c'è un boss finale oh no gliel'ho spelerato? eh sì qui c'è un ascensore che mi porta giù no sono sceso tanto che cazzo è quello? no che brutture ragni no sono dita avvizzite? intossicazione? ma cosa? ma cosa non c'è? ma non me ne ero reso conto? no vaffanculo ma invece mi faccio capire lei aveva una barra dell'intossicazione che si stava riempendo praticamente a metà dello schermo e non l'ha visto eh sì stavo guardando leggermente più in su tra la barra di intossicazione e la quella della mia vita stavo controllando che cazzo era con la schifezza là ma fammi una roba che tanto c'ho poche fiasche ho affrontato malissimo questo combattimento perciò eh torniamo un momento al falò anzi spreco un attimo queste ultime fiaschette per vedere quante vie effettivamente ci sono prima di eh andare dove mi importa eh mura invisibile non è vero quindi c'è a sinistra e una via dritta qua davanti a me e vedo un cavaliere da un altare e un altro che gli passeggia accanto quindi fammi una roba prima scendiamo al falò il ripresino tutto grazie signor tanker per aver linkato i canali mi raccomendo andate a vedere i video del signor tanker ed iscrivetevi anche al suo canale prima che mi incazzo e vi invada malamente ma ci ma non faccia pubblicità allora andiamo dritti di qua mamma mia oggi siamo minchia proprio allora cosa c'è qua ma perché ho a fianco un beatbox un 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 di un 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 Hanno fatto demons Cos'è sta musica? Chiedo scusa Sono un attimo rimasto Lo sapevo Lo sapevo Devo uccidere assolutamente quello là dietro E morirei così Non è morto Per un attimo non capivo Che musica Mi è arrivata Ah dai figlio Della medda Mi è arrivata un attimo Tipo musica Una musica melodica Eh no Mi è arrivata un attimo Un pezzo di musica classica Nell'orecchia Io non ho ben capito Cosa fosse successo Oh ma allora ti sta nell'occhio Ah figlio di Non me l'aspettavo un attacco del gen Vai fai No non voglio morire così contro di questo Uh uh No no Non rolargli Ma dai ma come cazzo sto combattendo stasera Ma non ci voglio credere Dai Ma no dai Ma non se la sta cavando così male Malissimo E non ho più Non ho più la stamina per schivare Giustamente Vabbè io ciuccio eh E ti faccio anche perry Perché ho combattuto di merda Ed è giusto che io ti finisca bene Ed prendiamo Un frammento grande di titanite Questa è una guardiana del fuoco No Amado Lei con i Con i perry Signor Ma sta spada Sta spada quale Ah quella sul coso Sì Me la ricordo È la spada di Lothric È la spada di Lothric Dei cavalieri di Lothric Ah ah Pensavo fosse quella di Jon Snow E invece Mamma mia Mi dispiace Mi dispiace Ogni tanto mi prendono questi momenti Ma basta con ste cazzate che si aprono sul computer Basta Ma sì Termina adesso la manutenzione Non mi Non mi stressare oltre Grazie Non mi scassare Uba Cazzo Ma scusa Così a tradimento Stavo guardando il computer Ma sei scello Ah ah Merda Mazzate Sono forti sti cavalieri Però ti becchi un backstab Fisciato da paura BAM No 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 Me ne vado Me ne vado Me ne vado Stai pure lì Stai lì Stai lì Fammi prendere Bra Fammi Fammi brandire Eh dai Ma hai scartavetrato la minchia E Cip in difficoltà Ma molto in difficoltà Mazzò Sti guerrieri ti fanno gli agguati In DS Sì effettivamente È una delle aree più Più Bastardi Mi ha interrotto L'attacco super pesante di una vita Non è possibile Ma molto lo faccio pure io Guarda Ah comunque cip dopo circa Mezz'oretta di farming Sono riuscito ad ottenere la spada del coccigia Che lei ha appunto praticamente Al primo posto di quegli schifo uccisi Sono bravo Con il culo Com'è Io la odio per questo Lo sa vero Ma sì Non si preoccupi Cioè io fatico per trovare tutto E lei ha le botte di culo Che Manco Non lo so chi è che ha tanto culo Che schifo è con la roba là No Tu sei uno di quei figli di puttana Che Baffa i nemici Ma pensa a te Ecco perché fanno così tanto danno È perché sono così resistenti anche Ah eh Ce n'era un altro Guarda te Ma figlio di Che poi comunque Una volta che gli mettono il buff Il buff gli rimane Non è che Gli va via Almeno da quello che mi sembra di aver visto No no È perché continuano a cassarlo Sopra di loro sicuramente Perché Ma l'avevo ucciso l'altro Come ogni tipo di cassa Boh Non lo so È limitato nel tempo Oh salone grande Grande salone Io non vorrei dire cipo ma C'è stato Non so cosa che volava in aria Si Rotolava Il mio velo Quando hai sfasciato il tavolo No no Quando hai sfasciato il tavolo Prima Oh non me ne sono Qualcosa che hai In concetto Non me ne sono È ma in live Grazie comunque Mille per il Per l'hosting Signor Tank Adesso vediamo Ma sei sicuri Gli ho detto Tanto Il mio canale adesso È È fermo Così almeno lo sfrutto Un pochettino Ok Qua Oh Oh Ma c'è un falò Non lo sta Non gli son passato di fianco Non l'avevo visto Pensa a te come sono messo Ma si ma si Buonasera a Corcallo Benvenuta Buonasera Buonasera come la v'è Come la v'è Signor Callo Signor Callo Qui che c'è Qui ci sono scrigni È un Una terrazza Niente nemici Strano Ah ecco C'è una scala Che sale È un muro invisibile Non è vero Mai Pezzo di titanita Grazie mi serviva Non disperare Cip Prima o poi Ma questi sono Cazzo I cavaliari del tutorial Quello di Dark Souls 1 Eh sì Però di danno ne fanno E valedetti No Tutto bene Corcallo Tutto bene Tutto bene Ah non muore Non muore con un colpo Ma sei stronzo Tutto bene signor Corcallo Come la v'è Buonasera signor Refo Buonasera Tutto bene Oh questo è uno scrigno buono Non ci credo Tra l'altro Cip Ma lei ha visto che sta Streamando anche Il signor Nave In questo momento No non l'ho visto Sì in questo momento Vuole che vada Sulla social A scrivere La salute signor Cip Ma vada Vada a invadere subito Il mondo di Nade Ma no ma Sta giocando a League of Legends Ma come Ma Nade che gioca A League of Legends Ma da quando Eh Ma League of Legends È un gioco che Devo dire Mi ha sempre attirato Un po' Che cazzo sono Quegli affari Che volano in cielo Ehm Roba che fanno diminuire Il frame rate Cip Posso solo dire questo Perché ancora non ho capito Neanche io cosa sono Devo studiarmela bene La cosa Devo guardare qualcuno Che ne sa più di me Ok Non è che sono tipo Il boss di Demon's Soul Perché qua è tutto Demon's Soul ormai Bam in the ass And they bang in the box Eh vabbè È morto Oh mio Dio Un sole nero Non è un sole nero Cip È un buco nero Un sole nero è una canzone Dei Lissiba Mamma mia che figata È un'altra cosa Guarda Lo guardi bene Non è un sole nero Un buco scuro È l'oscurità Che sgorga È l'abisso No Cip È il segno scuro Sì vabbè È la stessa identica cosa Cazzo È proprio il segno scuro No questo è un colpo di genio Della madonna Però effettivamente È un buco È un buco oscuro Ha ragione È un colpo di genio Della madonna Complimenti veramente From Software Una roba del genere È proprio figa Qua 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 se ci metto un piede sopra Si sfascia tutto Cosa vuoi farmi Sorpresozzo Tu dalla sopra Eccolo lì Lo sapevo E tu cosa sei? Uno di quelli brutti cattivi E ciccioni Au Vieni fuori Vieni fuori Oh Ma mi è scendato Ci sono rimasto un po' male Io signor Tanked Però Perché? Mi ha fatto un attacco magico Che sembrava un po' Tempesta di fuoco Ma di luce Mi ha shottato Ah Quello è uno È un attacco veramente bello È veramente forte Sì ho capito Ma mi ha shottato Ma mi tocca andare a rompergli il culo Era da questa parte qua Giusto Sì Non c'erano nemici Sì esatto Tranne questi qua Che sono proprio easy easy peasy Lemon squeezy Minchia però Quanto danno Ma dai ma sono mezzo morto Eh ma sono ancora vivo Spara spara Bravissimo Togliamoci di qua prima che Ok Curiamoci Qua C'è un arciere Che fa finta di niente Un arciere Un balestriere E si va a fare un giro giù La Tie Non ho più stamina Eh vabbè Tie Una doppia E mi droppo Lo scudo di legno Grazie Grazie Mi serviva moltissimo Lì non ci vado Perché tanto è soltanto L'imboscata Ma come Lo scudo di legno Ancora non l'aveva Ottenuto Certo Ecco E te pare Perché Ma dai È un drop di merda Ma che domande faccio Tanto Ma è un drop di merda Che lei ci crede No io ho dovuto Ma io ho dovuto farmare decine Di quei cavalieri Di schifo All'inizio del gioco Per ottenerlo Ma non ci credo Ma il chip È sul serio Cioè Lo scudo più stupido Del gioco E io ci metto 20 anni Per ottenerlo Io purtroppo Sono sfortunato Oh Soprattutto Nei giochi come Dark Souls Ma non ti posso fare backstab Oh no 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 Certo Sì che le può fare backstab Chip Ha il ciccione qua Sì Sì Non riesco a trovare l'angolo Che attacco era quello Eh perché deve trovare il sedere Eh minchia Trova Oh l'ho trovato Oh se l'ho trovato Madonna che bello Quell'attacco Con le colonne di luce Eh beh oddio Mi 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 fa cacare però Cioè nel senso Mi Mi spaventa Mi Mi rende nervoso Io voglio droppare Lo spadone dei cavalieri Della cattedrale Oddio Eh Te lo do io Refo Se vuoi Un giorno ci vediamo Su Su Dark Te lo passo io Spadone Mi ho droppato 3000 Mentre cercavo di Ottenere la loro balestra Com'è che si chiama? Spadone dei cavalieri Della cattedrale Spadone dei cavalieri Della cattedrale Eh sì Ti ricordi che c'erano Il Il Come si chiamano? Nella cattedrale Quelli con lo spadone gigante Eh Sto guardando se ce l'ho Non ce l'ho Ma Non ce l'ha chip Una cosa che non è vabbè Trattante Che tu sia benedetto Tank e los Gratis Dai ho trovato L'armatura Dei cavalieri alati E alla messa Del signor Tank Basta Posso anche smetterla Comunque Raffa rispondere alla tua domanda Di ieri e di prima Anche Sono commesso In un bellissimo negozio Di videogiochi Spoiler Cosa posso desiderare di più Spoiler così A caso Ok qua non posso Sì a caso Eh o me l'ha chiesto Diciamo No no Sì Non si preoccupi Anzi sono contento Che lei condivide Con i follower E la sua vita privata Le fa onore Tutto ciò Ma sì Ma per una cosa del genere Ma chi se ne frega Ma come chi se ne frega È importante E poi comunque Se gliel'hanno chiesto Significa Che per loro Conta qualcosa Andiamo verso Il segno scuro Anche se Non è una buona idea Andiamo verso Gli occhi misteriosi No Madonna No ma voi siete fottuti Guarda che bastardi Che lanciano i talismani Eh già Ma Abbiamo fatto la guattozzo Ma chi cosa Ce n'è uno Hai vista No Cazzo Cosa No no È che mi stanno lanciando Talismani E non ho visto Quello che mi lancia Le No ma sono Tutti sopra il ponte No sono tutti Sopra 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 il ponte Eh però io voglio Oddio No non approfittarti Bassamente così di me Perché sono caduto male Grazie Grazie Buonasera Wolf Buonasera 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 Oddio Sbagliato Dai ma basta Lanciarmi i talismani Ci mancava un cabarettista Nella live In questi In queste serate Adesso Devo aspettare Che mi finisca la roba Porca di quella Troia Ma da dove cazzo è Che mi lanciano le bombe Prondo Ma cip Glielo ha detto Che sono sopra il ponte Capito Ma come è morta La moglie di John Tra volta Ok Aspetta Fammi finire di controllare Cosa c'è qua E poi andiamo sul ponte Dai muori Ma si ma si Ma faccia Ok Nel frattempo Picchio la gente Perché sono stronzo Cioè Non so chi più stronzo Se questi E io vengo a farmi i cazzi miei qua E questi si mettono a picchiarmi Senza un reale motivo Allora Esaminiamo Madonna che figo Cioè io ci devo fare uno screenshot Subito a sta roba A cosa? Al 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 segno scuro Sì E il significato del segno scuro Signor Tanked? Che cos'è il segno scuro? Eeeh Ultro Ah Tanked Tanked La maledizione Porca puttana L'accolgo impreparato Ma ora non mi ricordo Cip No adesso Sì In questo momento sì No muoio Dio Oh curati che se ti lanciano Ti starnutiscono Adesso muori Ok Il segno scuro Li ha preso Da uno con l'ascia Ma do quanto Ma questo? Siamo sicuri che è morto? Oddio Cip Cioè sei rimasto con quanta vita Eh appunto Un falò Sì Falò 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 Yes Bene Citazione Buonasera signor Antonio Tutto bene Tutto bene Tutto bene Come sta lei? Eh vabbè cip Cosa? Un abbraccio No Lo confondiamo questo povero ragazzo Se parliamo insieme Gli chiediamo la stessa cosa Appunto È soltanto Un Un riecheggiare Della stessa domanda Ma ne Nello stesso momento Quindi Non è che l'abbiamo confuso Abbiamo ricaricato Quel che era La stessa domanda Non so di che cazzo sto parlando Oh mio dio Venga la descrizione del segno oscuro E lo saprà Cip Ma Cip lo sa Sono io che non lo so Che in questo momento Mi sfugge Che figo No veramente È proprio bello 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 E perché questi sono tutti morti? Che è successo? Ma tra l'altro Lì c'è un altro Di quelli brutti brutti E cattivi con le ali Con la super ascia Della vita trascorsa Mamma mia Quanto è Può essere figa Una zona Questa mi piace proprio Anor Londo È bello Gli sfondi Gli sfondi Di questa app Sono Praticamente Dei quadri Tu potresti fare screenshot E metterlo come sfondo Del pc Da quanto è bello Aspetta Ma questo è vivo No? No è morto Cip Sono tutti morti Ma è la stessa scena Che c'era Nelle mura Dove ho incontrato Il primo dei panzoni È la stessa identica scena Però là erano tutti Decapitati Sì esatto Questo come Ah no Questo è vivo Ui Non t'azzardare neanche A provarci a muovere Mani in alto Osotomae Osotomaiaia Ma do Questo lo Quando non aspetto Troppo a colpire le persone Gli faccio veramente Prondo Non riesco a depredare il cadavere Lancia pesante Potrebbe essere interessante Anche se Non sto cambiando arma mai Sto andando avanti con questa Finché non Non arrivo Oh Cazzo Adesso l'ho vista Forse ho capito a cosa si riferiva prima Quando? Quando ho detto No è morta No no Quando Ho detto Quello che cazzo è E tu mi hai detto L'hai vista No l'ho vista adesso Ecco Stai pu Ma stai tranquillo Pure l'altro Ma te sei fuori E tra le tue cippe Sappi che l'unico modo per superare quel punto là È correre E se proprio te la vuoi tentare Sì Mettiamola così Perché se no c'è un altro modo Soltanto colpirla Con tantissime Missime frecce Ma veramente Faccio bene che lo comprate E allora sotto In realtà In realtà con Una difesa dal fuoco Molto alta Riesce a passare Però devi anche avere Un botto di vita Ma scusa Ma le frecce avvelenate Non le fanno più Ma ce n'è due Comunque Eh se le frecce avvelenate Sì E infatti Prima uccidi una Poi uccidi l'altra Sì ma devo tornare A rifornirmi Di frecce E rive Sì Rifornisca cippe Rifornisca Ma dai Ma gli tolgo 71 Ma che tristezza Non ho potenziato l'arco Allora Senti Sai cosa facciamo Tanto hai 32.000 anime Sono più sufficienti Per potenziarti l'arco Cip Ma io stavo pensando Di passare Tanto i materiali Dovresti averceli Ah Madonna se corro Certo Certo sei vestito di Stracci e fanni Ti proteggeranno molto Dal fuoco C'è il tatua Cip C'è il tatua Ok ma c'è un luogo dove sono Effettivamente al sicuro Si Aspetta che mo lo trovo Ma non è che mi fanno Così male Alla fine Bevaci però Eh Momento No non ce la faccio Ok È per quello che le ho detto Che le conveniva Ucciderle No non fa niente Sono passato Signor Tank Ma se gli sbuco alle spalle Gli faccio Cosa Se gli sbuco alle spalle Gli taglio subito La coda Eeeh Eccola la Aia Ma dai Ma chi cazzo è Che continua a lanciarmi bombe E da quando sono arrivato Che mi lanciano bombe Porca troia Mo arrivo Mo arrivo gli spacco i denti Cazzo Ma scusa Ma non se ne vanno adesso Le viverne Rimangono lì Prodo Si ce l'ha col callo Però probabilmente Non può utilizzarlo Che cosa? Porca troia Che schifo è successo? No Mi sono arrivati 20 messaggi Tutti quanti insieme Uno o l'altro Eeeh Telecamera Telecamera No Ma anche no No Antonio Proprio zero Perché avevo la cento pugliese? E' una cosa che non mi avevano mai detto Che sei pugliese? Ma no Il signor Ma che è cento io Sei solo pugliese? Che è genovese Come il pesto Si Ok Dove sono Esattamente Tu Sacco di merda E' rete che mi Ma dice che mi lanciavi Voilà E' andato giù Come tutti Gli altri Guardali come mi inseguono Madonna Quegli episodi Quegli episodi Cazzo no L'ho fatto trasformare Ma porca puttana Ma io Buonasera Mattia Buonasera Buonasera Come la va Come la va Prima di passare Da so Dai che schifo No mi ha preso Ma dai Ma che palle Mi prende pure da sopra Cioè da sotto Io sono sopra E lui è da sotto Mi prende lo stesso E allora va fanculo Tanto lo skipperò tantissimo Io Con la merda Voglio vedere cosa c'è di qua Minchia Sta zona è immensa Tanked Eh Sì Oh no Oh no Oh no 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 Questo si che fa No Antonio Mi soviene Siancio Faccio come Carlo dei Simpson No Buonasera Shagrat Buonasera Shagrat Shagrat Ti è Perché così Shagrat Era un ricordo Aia Dai Guarda che muoro tantissimo Aspetta Guarda che ci muoio Guarda Guarda Porca troia Ma Dov'era la porta Ma Su cosa si era Incastrato Esattamente Oh cazzo Ho sbagliato mira Eh vabbè Cioè Ho una spada lunga 8 km E non ci arrivo Vaffanculo Vaffanculo V-A-F-F V-A-F-F Come cazzo gli occhi Madonna Madonna Adesso torna No Devo ripassare Le viverne Ma inca Ma basta Scrivere Oh Sì Oh no Adesso Non avevo letto Non avevo letto La domanda Di Refo Io Sare toscano Tecnicamente Refo Però vivo Da una vita In Sardegna Quindi Vive una vita In Sardegna Focone Fuoco Certo che lo faccio ancora Rito con la spada Puoi dirlo forte Allora Tanto ho già capito Che io dovevo passare Di qua e di là E di su e di giù Ma scusami Io mi butto di qua Cioè Tanked Sì Dimmi Ma scusa Te mi hai detto L'unico modo per passare Devi avere una resistenza Della Madonna Al fuoco Io dal ponte Mi sono lanciato sotto Sono andato sotto il ponte Non mi hanno tolto vita Ma Grazie Io Vika ti potremmo dire Passa sul ponte Buttati a destra E non subisci neanche Tanno Grazie Tanked Grazie Ma non devi Cip Certe cose Devi scoprire da solo Mica te le posso dire io No no Ma io l'apprezzo moltissimo Grazie Ma no Ma no Ma no Non faccia l'offeso Cip Ma scusi Le sarebbe piaciuto Ma che cazzo L'albero 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 Sei morto? No No vabbè Però farne anche un danno esagerato Questi qua Cioè non è possibile Io di difesa Di livelli Sono abbastanza alto Non possono farmi tutto sto danno Venite qua Che combattiamo Certo che so dov'è Prado Shagrath Guarda che muoio Uno che non è toscano All'incirca Non ci voglio credere Guarda che danno che mi hanno fatto Qua ci stava un Sono vivo come? No no Dai Minchia Ma che cazzo Non possono fare tutto sto danno Non possono fare tutto sto danno Vaffanculo Eh vabbè Attacchi uno Ti ammazza l'altro Eh come fai? Oh ma avete rotto il cazzo Cioè un colpo a tutte e due Guarda che riesco di morire Guarda che riesco di morire Ma poi Due contro uno Ma non è neanche leale E ci muori pure tu Ma hai saputo che dal sole Cioè quattro fiasi È un figlio di edition Sono Ma figlio di puttano tu E tua madre E te Oh cazzo E mo ci muori pure tu Perché me la prendo con te Sono frustrato Oh Cazzo ma devo andare in giro Sono frustrato E me la prendo con i barili indifesi Mi devo andare Devo baffarmi l'arma Per fare una zona base Perché se no Non gli faccio abbastanza danno Per ucciderli Minchia ma ho 30 di forza 30 di destrezza Una spada di Astora Più 7 E Non gli faccio un culo Non gli faccio Sono in palese difficoltà Cazzo mi devo baffare per davvero Ma non è possibile E voglio fargli un backstab a questi Buonasera Davide Buonasera E non me lo fanno fare Certo sembri Gesù con quella barba Sono Gesù con questa barba Adesso No lo spuntate voi Va bene 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 Eh sì Cipe è in chiara difficoltà E tra l'altro ti suggeriscono cambiare armatura No eh No perché dovrebbe Esatto Perché dovrei Oh abbastanza Oh ma lo fa un locco Su questo Su questo posso darti ragione eh Se hai riuscito a grado Oh Per essere Gesù dovrebbe usare i miracoli Però Oh Uno è morto Ho dovuto il cazzuto con la spada No vabbè Ma hai rotto il cazzo con questo scudo Combatti con l'arma Niente Oh cazzo Oh grazie che non hai attaccato Sei stato molto gentile Sì Ma basta La cosa assurda è che ogni volta ci prima a sprecare A sprecare a utilizzare tutte le fiasche Esci da sto scudo maledetto E affrontami Bravo Così Oh Ma tra gli amici di cosa Del PSN Refo Oh Quanta roba Tanta roba Tanked Tanked roba Eh Mi Eh Vabbè Grazie Ma scusa Io sono venuto Ma sono venuto fino a qua per niente Sono venuto fino a qua ad affrontare questi due per niente Per niente Ma deve fare tutto il giro anche C'è C'è anche tutto il giro da fare Che Quanto bassi framerate però ogni tanto Ehm Purtroppo questa zona la ghicchia parecchio Ma che cazzo Dai Anello di 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 Gwenever Gwendoline Bamboling Bamboling Balen Faccia robe Recuperi la vita perché qua scasseggia Mi recuperi la vita perché Oh c'è uno di quelli brutti e cattivi Fussolenti Sperando di Passarlo tantissimo Saliamo di Saliamo di qua Poi andiamo dritti di qua Questo è uno che mi fa il sorpreso Ossi No Minchia l'ho ucciso il pelo Ma proprio quel pelo che manco Carmelo Guarda Salutiamo Carmelo che ci segue sempre Salutiamo Carmelo che ci segue sempre E qui un oggetto nascosto Un urna del fulmine Attenzione Ma perché io devo sempre farmi le zone senza fiaschetti Buonasera buonasera signor Davide Iron Esattamente qua lui c'è sempre stato perché è uno di quelli power Che followa un casino Cioè so Cioè non so se mi spiego C'ho paura di andare avanti di qua Secondo me lei Questo posto che sta facendo Machip Sì Decisamente Melolocchi Grazie Grazie Loccamelo Tiè No ma fi Eh vabbè minchia E' un ninja Tiè Ovvete Imboscata Mi so Cagato malissimo Pensavo fosse stato glitchato questo cadavere che mi era apparso alle spalle Invece non cazzo proprio Mi hanno fatto veramente l'imboscata Pronto Signorina Testimoli di Geova Pezzo di merda Lo sapevamo fatto un altro Wow quanti Ma dai Ma no Ma non ci voglio credere Vieni giù Vieni Tiè No non è morto Adesso arrivano gli altri Mi fanno il culo Eh vabbè Parati 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 Qualunque cosa succeda Parati No ho mancato la porta Ho mancato la porta Aia Mi lanciano le puntine da disegno che tolgono un fottio tra l'altro Voleva farmi bene Mi stava affisciando il backstab sto figlio di Di pantaloni del desertore Comunque ref Ti stivo il Ma Non mi viene Il nick del PSN Direte sulla chat Oh Porca troia Il fondi colpo Dai ma non possono farmi tutte queste imboscate Io c'ho il cuore sensibile Cioè là c'è il falò Là c'è il falò Ah però non posso arrivarci da qua A meno che non sblocco una scala Ci sarà una scala Sì Oh Oh No No Tu no Tu sei uno di quelli brutti e cattivi Io però faccio così Oddio Oh mio dio Eh Pronto Non cadere No Cioè per salvarmi Mi sto preoccupando Per salvarmi mi son buttato giù Ok segui attentamente quello che è successo Per salvarmi mi son buttato giù Nel momento in cui rotolavo giù mi ha colpito Mi è rimasto un culo di vita e sono morto per la caduta Bellissima questa morte No questa è daylight comunque Questa morte è daylight Cip Una curiosità Io arrivando là Alla fine di quel ponticello Eeeh Non trova nulla Cip Esatto E allora dove minchia devo andare scusa Devo Ho visto che c'è quel portone Eeeh Sempre da Dal ponte Si butta di sotto Eeeh E esplori C'erano anche delle scale che andavano di sotto Giusto per dirglielo Eh non l'ho vista Aspetta che mo qua Ma dai ma 45 mila anni Ma vabbè persa per sempre Ma è bella Ah perché è sopra Vabbè ma se fai il giro riesci a ritrovarle con le anime Tanto ritorna qua Ma in teoria io sono morto sotto Quindi le anime dovrebbero essere No però le anime No sono rimasto sopra No perché le anime è da qualsiasi su Ma che p***o Però scusami se tu adesso nel ponte ti butti a destra Si 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 Vai direttamente in quella zona là Si 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 Ma da quanto basso il frame rate Il frame rate Mi Ralletta Citazioni per chi Conosce il video Ma una ricertola Ma chi era è giupizzi Aia Si è giupizzi Lo seguo tantissimo Che tra l'altro ha metto Di quanti i dark souls Ma quanto danno Però No C'è una ricertola Attenzione Ci per la mancata E Ho tirato C'è un coltello nella spalla Cazzo Non riesco più a usare l'articolazione E se Allora Vabbè dai non è così Reale Però lo sarebbe figo se lo fosse Comunque Alex e Refo Ho ricevuto le vostre richieste d'anicizia Appena Appena finisce la live Accetto tutto Non ho la stamina per schivare Mi lancio i coltellini E' diventato un ninja In faccia No Volevo colpirlo in faccia Coltello da lancio Quanto veloci però Quei coltellini Ma porca Porca Tra l'altro Se lei prova a lanciarli uno dopo l'altro Si 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 sono velocissimi Ci 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 Sembrano degli sciuri Ma tipo ninja Esatto Ah Ma non mi ha visto Si invece No come Fammi un disegno Aspetta Vieni giù Vieni giù Vieni 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 Che là c'è l'altro che mi lancia i Le fiale di media I talismani di Instagram Funciazza Che non guardarmi così Devi scendere giù Dai è diventato un elicottero Spin to win Non sei a favore di backstab Però se ti metti così Oh le Ti è Io penso che debba evitare Che Di farsi fare Backstab Che 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 Stamicizia Su CPSN Le accetto tutte Dopo che finisce La raga Tranquilli Ma quanta stamina Richiede quell'attacco lì Ma che cazzo Aspetta che mi finisce la nebbia Poi ritorno Ecco il cazzo Che Ritorno a ucciderti Io non lo affronto Quello senza la possibilità Di curarmi Con calma Oh grazie Arrivo Sono fatto il cicchettino Ma non ti sei curato Eeeh No C'è C'è sì Ma no È solo metà del nome Quello Ti è Questo Eh vabbè Grazie Alex Grazie per averlo messo tu Ma dai Cazzo Mi hai tolto esattamente La vita che avevo recuperato No Ma non ti preoccupare Alex Che ti accetto Tranquillo A fine live Adesso mi concentro sulla live Che è È più importante Ma smettila di andare a ficcarti lì Nell'angollino No ma hai rotto il cazzo Adesso mi hai rotto il cazzo Ti manca un colpo Quanto lungo questo combattimento Minchia non è possibile Raccolgo un frammento di titanite Grazie amore mio Saluta di ciao Saluti la sua signora Cippe Mentre Cippe Cippe Ti salutano Eh sì Cippe sono io Cippe Smiau 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 Non farmi cadere Mincazzo Anime recuperate Balestra di precisione Dardo da tiratore Eh tutta roba che uso Yeee Tutta roba che uso Non uso un culo io Di quella roba lì Adesso Sei fiale Vabbè che ho recuperato le animelle Ho recuperato le animelle Me ne torno al falò Perché non so che cacchio fare Poi scendo E cerco di 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 Andare avanti per quella direzione Che mi aveva detto il signor Tange Io le animelle le tengo Non le vado a spendere now Se posso darle un consiglio In quest'area E' meglio non tenersi troppe anime Vado a spendere le mie anime Perché è molto bastarda Ma che palle Perdiamo un sacco di tempo Ma sono già le undici Eh si Sono già Meno cinque Ma sta scherzando Ma non ci voglio credere Ma doma Non me ne sono neanche reso conto Ma Quanto corto il tempo Quando uno ci si diverte Più che divertimento È tutto un bestemmiare continuo Però Diciamo anche Fifty fifty Cip Sì Voglio potenziare l'arco Però mi sa che non ho più frammenti Perché Compriamo le frecce Acquistiamo Tante frecce Prendiamo quelle incantate Così almeno Ho qualcosa di un po' più potente Da lanciare Ci sono le frecce Oscure Peccato che quelle cose là Non soffrono molto la magia Cip Merda L'hanno appena comprate 198 Ma io non voglio uccidere Le cose Le viverne Il tempo durerà poco Quando uno muore Prima o poi Verrò abilitato A mandare a fare in culo La gente Ma fate anche Del pvp È colpa di Alex Sì lo so Per il momento no Perché Vabbè sì Quando mi invadono Giustamente Faccio il pvp Non vado io personalmente Ora Anche perché In live Mi rimane parecchio difficile Fare Perché non sembra Ma lago Lago parecchio E Fare il pvp È come giocare a rocket league Cioè tu Pensi di colpire Sapete tutti Come funziona il lag Su Su Dark soul Che ti prendi il Backstab Che Sei da Uno da una parte del ponte L'altro dall'altra Che gli fai il saluto A un certo punto Ti ritrovi Da forte ferro Ti ritrovi a Majula Che ti backstabba E Allora Preferisco Non Andare a fare Troppo pvp Ora Cioè Preferisco Il pvp Preferisco farlo Magari Per i cacchi mia Ma sì E fare E fare E fare I video Giusto per Non ti trasformare Sai Ok L'ho preso in tempo Fortunatamente No ma poi Cip c'è anche da dire Una piccola cosa Da ricordarlo Ricordi Ricordi C'è il Non il replay L'highlight Di quella live Perché gli aveva fatto In live Sul canale di chip Quindi potete andare A vedere Ma sì Ma mi ha fatto piacere Fargli l'highlight Perché quando è successo A me Di fare quella roba lì Non sono riuscito A registrare Perché Non l'avevo registrato Era ancora su Playstation 3 Su Dark Souls 2 Stavo invadendo L'highlight Mi è successo Di fare Sto doppio perri E Non sono riuscito A registrarlo Non puoi capire Quanto mi sono incazzato Anche perché erano Dei ganker E li ho battuti Grazie a quel doppio perri Ma scusi Ma le scale Che scendevano giù Un dogazzo stanno Scusa Mi sono perdito Tipo qua No Ma Duncan Mi hai mentito Non è la Puglia Come no Ma Giula Non è quella città In Puglia Come no Ma Giula Non era quella Città vicino al Barobello Cipe Non per dire Ma c'era la parte Dove sei stato Gancato dai cavalieri Che poi non ti hanno dato Praticamente nulla Hai presente Dove stavi affrontando Grazie Chagrat Ma come no C'era una scala Grande quanto lei Cipe Se non di più Ma cambiava Nella forma Nel colore Si è trasformazione Non mi dire Che devo di nuovo Uccidere Quei due cazzo Di cavalieri No no Quelli là No Praticamente Lei va Si butta nel ponte A sinistra Va fino alle scale Sare le scale Entra nella porta E subito a destra Ci sono altre scale Ah si Non l'ho vista Perché mi stavo combattendo tanto Cioè Le avevo viste la prima volta Che sono passato La prima volta che sono passato Le ho vistute Dove cazzo Che cazzo sto andando E poi se ne è dimenticato Le è passato No poi ho voluto Provare a esplorare L'altra parte Poi pentendomene amaramente Aramente amaramente No guarda Sai cosa ti dico Io piuttosto che affrontare Quei 5 o 6 cazzo Di nemici Che Provesco passare Dalle viverne Guarda Via Aia Aia No ok Scusa Scarsa Fanno troppo danni O parto O inizio a partire Prima che Iniziano a sputare fuoco Altrimenti Non ci arrivo mai più Però Voglio testare L'agro Di quelle creature Ok Ma Basta che Mi attira uno Alla volta Di quelli là Per affrontarli meglio No no Io corro Corro Non mi inseguono Fino qua sotto Cazzo No In realtà si No veramente Ha trovato un cavaliere? Si Si Che dire che mi sta Prendo il culo E' poco Scusi Cipe Ma non potevo dirle Vada lì sotto Che c'è un cavaliere Ha fatto bene Non dirlo Non sono potuto Dire Ma tipo Un backstep Ed è uno Di Irritil No No De la valle Bellale Si Esatto Dai ma Niente Non mi vuole far passare Niente E' un vigile E' diventato un vigile Non mi vuole far passare Dietro di lui Non ti voglio combattere Sulla scale Che qua Diventa una merda Dark soul E' sempre stata una merda Sui combattimenti Su livelli diversi Eh beh Cipe Non è che fare I combattimenti Su livelli diversi Sia col facile Anche nella realtà Troveresti Un po' di Di difficoltà Si ho capito Ma sicuramente Io vado a mirare E lo colpisco Stocco di irritili Una bravo L'ha battuto Eh si Alla prima botta Eh si sta spegnendo il televisore Perfetto Che C'era Allora A inizio A inizio run C'era mio fratello Che prendeva il conto Delle morti Poi adesso Dovrebbe esserci qualcuno Che tiene il conto Di quante volte Devo impedire Al televisore Di spegnersi Quattro scrigni Quattro scrigni Allora Non me ne frega niente Che uno sia un mimic Due o tre o quattro Ma io sono sicuro Che troverò Merda qua sotto Uno scrigno Sarà buono Gli altri tre Saranno stronzate Non ci incischi Vada Un momento Sto sorseggiando Il mio caffè Adesso magari Trovo tutto il set Di Avel Facci pure Facci Allora Questo è un mimic E morirà Ora No Non è un mimic No Questo No Quello no Questo Oddio No Ma sono tutti buoni Scusi Cipe Mi si è spento Lo schermo del pc Aha Scudo dell'albero degli spiriti Dimmi che è quello Che fa fare i perri Dalle magie Dimmi che è quello No Glielo posso anche dire Parato Oh Uno scudo decorato con la stemma di un albero Uno degli scudi blu incantati Questo scudo riduce notevolmente i danni da fulmine Perché Proprio in questa zona Scaglia di titanite Forse perché Forse perché i cavalieri quando cassano la loro spada fanno danni da fulmine Titanite scintillante E perché qualcuno dovrebbe tenere in uno scantinato Della loro Legione Una roba che protegge dai danni Del quale loro Infliggono Titanite scintillante Attenzione E l'avevo detto Che era tutta merda A parte uno scrigno Beh proprio tutta merda No 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 Perché la titanite scintillante E' buono E' merda E' merda Io volevo i super set della vita segreta Ehm Niente Io sono sceso qua solo per affrontare il cavaliere A prendere quattro scrigni caccati E mo? Si esatto Che bello E ora vado all'altra parte della Puttana tua sorella Mi son cagato malissimo Non sua sorella Etan Non mi permettere mai Però sono stato quasi No ai miei rossi Ma come si permette? Ma lei sta incontrando mia sorella Ma come si permette? No io no mai Giuro Ehm Allora di là no Ma c'è un altro passaggio dai draghi Ah si che c'è Via Si corre Si corre Si corre Ok E dai Che rompicoglioni che so Aia Madonna Ma che mira Non è possibile Barili esplosivi Barili esplosivi No tranquillo Quando arriva a quel punto là Ci penso io Tranquillo No Allora non vedo niente Tanto Tanto devo farlo fare in live Perché non ci arriverà mai Porca troia Come ho schivato quella bomba Incredibilmente Tra l'altro No 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 Allora aspetta No no aspetta Aspetta Repo Ti ho bloccato due secondi Per evitare che leggesse Non ho letto comunque Sono troppo impegnato a schivare Roba che non schivo Meglio meglio Ah c'è una scala Minchia Se vengo a romperti il culo Ma no Ma dai Bravo Io salgo Tu scendi Complimenti Però Alex Anche tu Cioè Aiutami un pochettino No Se vedi che uno È un minimo di spoiler Uno Do Ma che tu Cosa fanno Sì no Stavi lo stiamo Gocando Da sol 3 Anche tu Giusto Ma scusa Qua c'è una zampa Lo so Alex Ma C'è Vabbè Ecco Oh no Oh no Ah sì Figlio di No Ma dai Oh scusi Per sbaglio Ho cliccato un R1 Mi è venuto un attacco In caduta E ho ucciso uno sotto Permesso Bravo Alex Bravo che lo stai giocando Ti è E ti è Andiamo un po' Con la più romanza Ma la prima La prima rantula È già finita Pure Sei ancora In La stai ancora facendo Alex No Sto per sapere Quanta fatica Ma gli piene una bella palla di fuoco Ma non le fa uno schifo con la palla di fuoco Eh mi spiace È scarso Sarà perché proviene dalla zampa di un drago Ti amo Sarà perché Che ti fanculo Scusi Non vorrei Non vorrei disturbarla Ma Ma mo ti spacco proprio No ma non la colpisco di qua Hai perso 42.000 anime Come ho perso 42.000 anime Ma non io No no Refo Refo Minchia Eh beh Ho perso 42.000 Nelle prigioni Ne ho perso 58.000 A causa di tanked Scusi No 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 Vediamo un po' Ieri ne ho perso 2.500.000 Immortacci Refo Vabbè io se Io se muoio adesso Ne perdo molte di più Quanto ci metto a uccidere Sta roba Faccio bene che non si stacca E rimanere fermo Praticamente Sparandogli frecce Guarda è diventata un puntaspiglie È diventata Allora con queste Gli tolgo 108 Con queste 162 Minchia Conviene fargli Usare le frecce normali E ti saluto Mori Un frammento grande di titanite È un abbraccio Ma scusa ma ho ucciso il drago così Punzecchiandogli una zampa Il drago Il drago l'ha ucciso Prima Colpendo le zampa Dopodiché dalla zampa è fuoriuscita Corruzione Ma anche quella Di corruzione si tratta Sì io non glielo volevo dire Quando gli ho detto Deve ucciderle entrambe In realtà basta ucciderne una Poi l'altra muore Insieme adesso Perché? Non si sa il perché ancora Ecco Non si sa il perché L'ho anticipata Però Va bene così Cioè Sì sì Allora questo lo voglio uccidere Ah questi sono due No 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 Ma che cazzo Che cazzo Cosa cip Allora Sti nemici base del culo Hanno Gli danno sempre A tutti quanti Un attacco in serie Che non è possibile schivare Se ti prendono con il primo Ma sono dei cazzo di macellai Ah sì sì ho capito Porca troia Non è possibile Che mi fanno spracare Così tante fiaschette Pure i nemici normali Ora però Ma le impagni un pochettino Con scudo no? Cioè l'ho equipaggiato Ma no eh guardi Io purtroppo Lo sa che Per come la penso io Degli scudi Lo uso soltanto Fare perry O pararmi Quando devo girare zone Che non conosco Però durante il combattimento Non sono più Non sono proprio Abituato a usarlo Quello sì Anche io con Almeno con i personaggi Che uso nel dual wielding Per me Lo scudo Non esiste Tra l'altro Mi piacerebbe Anche iniziare ad usare I martelli di drang Visto che Li sto potenziando Tu non mi fai Un cazzo di pena Ma Ma scusa Dica Signorino Ma scusa Questo qua Era una sentinella Cazzo Quale esattamente C'è uno Che si è messo A urlare Brutto Sì era una sentinella Perché si sono svegliati Tutti quando lui Si è messo a urlare Sì sì No ma Ti fa l'agguattozzo Cazzo Ma era rimasto Inviso O l'agguatto stronzo Devo Mi ha beccato due Vabbè Che cosa? No Prima stavo guardando Che senza neanche volere Mi ha beccato due Uno stava arrivando Mimic Prima raccolgo l'oggetto qua Resina pallida A Mauri piace fare Perry Ma io ancora non li ho visto Fare Perry stasera Ma come no? Uno o due li ha fatti Non li faccio sempre Anche perché E Oh Questo è uno di quelli Di Dark Souls 2 Ok Wow Ah Fai pochissimo danno Adesso mi faccio mangiare Fai pochissimo danno E mi uccide Con l'attacco di presa Scaglia di titanite Eh Muri invisibili Non è vero Allora Quanto è grossa sta zona Datemi un falò C'è una leva C'è un cadavere Adesso io non Si C'è un cavaliere grosso Sento un cavaliere grosso camminare Dove? Eh cipè Porca puttana Eccolo lì Tiriamo la leva Vediamo un po' cosa succede Non si dimentichi la leva No no Cosa succede? No perché Lei non lo sa Ma io in realtà Io la prima volta qua La leva neanche l'ho vista Sono sceso giù All'affrontare i cavalieri Poi mi sono reso conto Che c'era un cancello enorme Ah devo scendere di qua Sono venuto Di fare tutto il giro Yes Ah no ma No vabbè Qua passando per le viverne Io a sto punto Sai cosa faccio? Torno al falò Visto che le viverne le ho uccise E mi evito Cioè recupero le fiaschette E posso riaffrontare la zona Lei pensa che può essere una buona idea? Ah beh sì sì Deve essere un'ottima idea Cipè Deve continuare ancora a lungo? Ah Eh? Cosa? Ah 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 Sì? Ah Vai Ah 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 Non so se è una scena dei Griffin o dei Simpsons Una roba comunque Mi pare che fosse dei Griffin Mi pare che fosse dei Griffin Ok Mi pare un po' che fosse dei Griffin Io ho visto che c'è una nebbia L'ho vista chiaramente Lo sa? C'è un nebbione? C'è un nebbione Mi sembra che fosse una nebbia E vuoi sapere Vuoi sapere cosa sto per dirti? Allora Questa zona qua È un'altra zona che ricorda molto di Moon Soul Un'altra È la zona dove tu affronti il perforatore Il penetratore che comunque si chiamava Il perforatore The penetrator The penetrator Che poi Maddoh gli hanno cambiato il nome perché la gente è maliziosa Capito? Eh beh Ovviamente Chepe scusi eh Ma scusa se ti arriva alle spalle e ti penetra si chiama penetratore Il terminator si chiamava terminator perché terminava la gente Vabbè andiamo avanti Proseguiamo Io non so se si vedo Per la battuta che hai fatto o per la risata totalmente malvagia? Ho dovuto fare la risata così se non faceva ridere la battuta faceva ridere la risata Va bene Non mi ha fatto bene Urna del fulmine Che sicuramente mi servirà in una zona dove la gente fa attacchi di fulmine Bene Le sarebbe potuta seguire contro le viverne Magari no? Ah Ah Scusaci Beh non per dire ma I draghi e le viverne risapunto Dark Souls 1 Che sono al fulmine Pensa che io la prima viverna che trovo in Dark Souls 1 non l'ho ancora mai uccisa Nonostante mi ha ripetuto i tentativi Ma in realtà non c'è proprio... non è proprio da uccidere Ma mi sarebbe piaciuto tanto provare a farlo Ma sono scemi hanno abbaffato quello lì No si può però è molto lunga come cosa di te Molto Anche utilizzando le frecce è lunghissimo Ma io questo come lo ammazzano E lo uccide Ma no ma dai Bexel Non gli faccio un buco di... Non per dire ma non gli... Non gli hai fatto nulla con la piromanza Dimmi che questo non respawna Se questo respawna è la mia fine Oddio l'hanno ripetuto No Figlio della merda Comunque si respawna Chip Cazzo Ce n'era un altro di quei sacerdoti No là c'è un altro di quei cavalieri Dove sei andato? Per il tuo bene Chip Per la tossa vita mentale Io ucciderei il sacerdote Si si l'ho appena fatto Allora l'hai già ucciso? Ok ok basta Scusa ma sono indiferita Porca troia No 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 Comunque il loro spazio è spettacolare Mi dispiace ma Aspetta che mo devo curarmi again Perché Ah ok non ci provo mai più a farti perre se lo usi Se lo tieni così a due mani mi fai troppo danno Non posso rischiare di fare un perre No Ma No Figlio di puttana Lo sapevo che ce n'era un altro Ma non ci voglio credere Gli ha ripristinato tutta la vita Mio dio C'era un altro incantatore? Si Aspetta eh Ma no Dai No Ma cazzo ma Un mezzo secondo dopo Bastava che arrivassi un mezzo secondo dopo Mezzo secondo dopo E ti saresti Avrei evitato il colpo Agia No No Non posso avere così tante difficoltà per un nemico del cazzo come quello Non ci voglio credere Può avercene chip Può avercene E sai cosa ti dico? Io schifo Io schifo tutto Vado dritto nella nebbia Anche se Ma vada vada Non ci schifo Vada Porca di quella puttana Che ora è? Dai 11 e un quarto 11 e 17 vabbè Dai 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 Perché ho un orologio che dice un'ora e un altro con un'altra vabbè Tutta colpa dei frame rate se non riesco a giocare Mettiamola così va almeno Cerco di autoconvincermi che è così Allora sacerdote dei miei coglioni Io qua però se salgo leggermente alla scala so che Merda Ma non ti curare stronzo Ma dai Oddio Vieni qua Vieni qua No l'ha baffato Porca puttana Tu non No il tuo agro non arriva mai fino qua No Io non so cosa dire chip Guarda è diventato Ma non ti abbass- È diventato il boss di fine gioco Eh? È diventato il boss di fine gioco questo cavaliere Ma veramente Oh è morto il sacerdote E mo' tocca a te Tanto vedo che torni indietro Ma dai Ma vaffanculo Non è possibile Cosa fa? È impazzito Che è successo? Ha fatto Si è girato di brutto come se volesse dirmi Ha ha E invece Ma tra l'altro l'ha mancato Una domanda Anche due Perché ha attaccato il vuoto? Cioè l'ho visto adesso Ma ha appunto attaccato il nuva cosmico Aspetta eh che Aia Se arriva l'altro sacerdote son cazzi Se arriva Ah ti è finito il buff Par caso? Eh? 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 Minchia oh Si bravo Ti ha ucciso? Si Si Bravo sacerdote Così almeno non mi fai Cacare sotto pure con l'altro Sempre se non ce n'è altre qua in giro No dovrebbero Dovrebbero essere quelli là e basta Un abbraccio grazie Eh ucciso due Forse sono tre chip però No ma veramente No Eh forse si No io qua ne vedo Forse se sali le scale ne trovi un altro di sacerdote Ma scusa io quello non me lo inculo Senti eh Perché devo andare a sprecare tempo Con un nemico che non mi accra Ma l'altro cavaliere Ma l'altro cavaliere lascio Tanto non ti attacca Devo guardarmi bene intorno Cos'è questa? Muro invisibile No non è vero Uccidi a colpi di perri Ma stai scherzando Quelli hai visto il danno che fanno? No no Non è Non è salutare per la mia sanità Io divento vacuo a cercare di fare perri a quella persona Qua non c'è nessuna leva Di là Che non ci sono Ma levale le mani d'osso Aspetta eh Ehi tu porco Levale le mani d'osso Voglio andare a vedere anche Chi mi azzecchia l'accezione Eh dovrebbe essere Teddy Non lo so Le Teddy? No Che ne so Io ho tirato a caso Tanken Ok No cifre comunque Non era Teddy Chi è Teddy? Ah Ma perché mi si sta in continuazione spegnendo lo schermo del pc? Prego pc non farmi incacchiare Ma cosa vedono i miei occhi? Mamma mia che brutture Mamma mia Ah uh uh Ascensore Dimmi che è uno short cut Uno che? Uno short cut Quanto lento però sto ascensore Maledizione E vedrà anche quanto scende Chip Dove mi porta? Ora lo vede E' uno short cut che taglia letteralmente la mappa Ma dove cazzo sono? Oh Cazzo ma sono proprio all'entrata della cattedrale Ma vieni Ma vai Level design Over 9000 It's over 9000 It's over 9000 What 9000? Perchè posso Fare tutta quanta quella scia Quante volte l'ho vista Mmm Ma guardi se proprio Io non le dico di no Non ci tengo Però sai cosa faccio? Non ci tengo proprio Visto che sono stronzo e ci muoro Olè Io lo ascensore lo faccio andare giù Noi siamo arrivati da lì Così a me non arriva Prima di andare dal boss Voglio vedere cosa c'è qua Un simbolo di vocazione di Egon di Karim Di Karim Oh ma questo qua si chiama come me? Karim Sì che poi è la città Karim Ma Vabbè Cipe Non lo sa Povero Povero Yoto Non lo sapeva Una moneta arruginita E uno scrigno buono Ma te lo vedi Cipe? Che fa Ma tu stai scherzando? Ma con quale posa Da pedofilo incredibile Che cazzo è un altro short cut? Un altro short cut Che marchi ingegno non si muove Oibo Va bene Va bene Chiedo scudo E qui? Un balcone inutile? Che secondo me inutile non è Perché posso buttarmi da qua sul tetto? No sotto è Buonasera grande tuffa Buonasera Buonasera Come la va? Come la va? Aha Vedi che una ragione c'era Anello della pietra rossa Adesso posso finalmente Rischiare di morire Tirando un colpo forte Ok Ma non rischi Cipe Non rischi Dovrei anche decidermi A valutare un po' Gli anelli che indosso Perché Non sono ottimizzato mai Una porta Ah Ah un altro short cut Ma no vaffanculo Non si apre da questo lato Pure questa Eh vabbè Non si apre da questo Buttati che è morbido Ma dai c'è una scala che va su E che cambia No non cambia molto È una scala in ferro battuto Quanta roba c'è prima di un boss? Tanta roba Cipe Tanto Peccato che non hanno messo Tipo trappole No No Diceva? Va bene L'ho stata traccechini Cipe si sta Cipe si sta pentendo Gli ha detto Quella parola Ma cosa? Ma dove? Aia Ma che cazzo Mi lanciano i missili? Ma che missili? Ma Ma io Vedo le cose 20 anni dopo Ah ma non è giusto Ok Si è incazzato il barista E' venuto a servirmi da bere Minchia Con una freccia Proprio nell'occhio Ma non sei ancora morto? Oh Hai visto? No non è ancora morto Cipe Hai visto cosa succede A giocare con i grandi Schiviamo nel freggio Meglio di metri Che palle Hai sbagliato Ah io no Non ha sbagliato Schivagat è una delle aree migliori Che abbiamo fatto All'interno di questo gioco Ce ne sono altre Che mi sono piaciute parecchio L'Iritil È qualcosa di settacolare Allora lì Scendo Per tutti quelli che dicono Non è bella ma Minchia se è bella Comunque io continuo a dire Ho trovato tantissime persone Che criticavano il fatto Che fosse Troppo Bloodborne Come area Bloodborne? Ma dove? Ma dove Bloodborne? Mi piaceva tantissimo Ecco Quelli che hanno detto Non lo so Le scale Le scale sono di Bloodborne Sì Perché il design di queste scale Ricorda tanto quelle di Bloodborne Ma questa zona Non è proprio un cazzo Bloodborne Scusatemi tanto No non questa Iritil Ah io chiedo scusa Chiedo scusa Ci si calma No No mi calma Va bene È un muro invisibile questo No Sì sicuro Anello del cavallo Allora questo No Ma qua No vabbè Ma è gigantesca sta zona Là c'è un boss Voglio andare a fare il boss Ah C'è una porta Che non si apre da questo lato Perfetto Stai a vedere Che dietro c'è il sacerdote Dietro c'è il sacerdote Che lo cura Stai attenzione Stai attenzione Stai attenzione Stai attenzione Stai attenzione Stai attenzione No perché Ho voluto fare quello No Che è successo Ma mi ha bisciottato Ma come ti ha bisciottato Mi ha bisciottato Nel senso che con due colpi Mi ha ucciso Ma vado No vabbè Il secondo colpo Ti ha tolto praticamente Più di metà vita Chip Mi ha tolto esattamente Tre quarti di vita Porca puttana Ma vado Ma Ehm Cosa sta facendo C'era il gatto che è impazzito Scusate Era entrata In berser Che stava facendo robe No ma dai Ma che falle Cioè A parte che A parte Scusate Tutta quella strada È roba È un plus Nel senso Cioè Si può saltare Si Si la puoi saltare Trovi una cosa interessante Chip Quindi Io Ci posso andare offline Onestamente Ti direi Si Si assolutamente Allora Adesso Visto che tanto L'ascensore L'ha L'ho abbassato Farei una cosa Veramente Muy intelligente Viaggio Chip Senta se Quel cavaliere Le pita la sua spada Che bisciotta E Alex Aggiunge Tu finché non fai Quel pezzo Non stacchi la live Sapido Probabilmente Si riferisce Al nebbione De la periferia di Dan Sto per lasciare 40.000 anime Abbondanti Là in quella zona Non sapete che vi dico Non me ne frega niente Ma niente niente E mi faccio un sorso di nestì Quindi Bevete nestì Ma che offline Voglio vedere la cosa interessante In diretta Ma no Alex Adesso andiamo per il boss Ma come Chip probabilmente Tu lo prendi come un insulto Questo qua E appunto Lo stavo per dire Lo prendi come un insulto Serasvaku Ma no Insulto no Perché mai Ma non lo so Brando Buonasera signor Nico Ma che cazzo di fine hai fatto Nico Ma sei scemo Ti sei saltato tutta la live Praticamente Anzi Non dovrei neanche più Essere online Tecnicamente Ma sei stronzo Anto Pagaldo Perché Perché fa caldo Che cazzo di domande sono Il tè Il tè Ma certo Io sono Molto intelligente Chip Ah capito Quanto lento Questo ascensore Voglio vedere la cosa interessante Più boss in diretta È Chip al pezzo Più boss Quindi devo ritornare là In realtà Sono 23 Ma no ma Il limite Ma Il limite Lo farò vedere Dopo che l'hai già trovato Frega Aspetta Aspetta che adesso Alex Mi prende la parolacce Sì Oh mamma mia Quanto è sceso il framerate Non hai idea C'ho paura Comunque Non hai idea Perché Spero non sia niente di roba volante No no Non è roba volante Vedo peli Vedo robe Attraverso la nebb Non si dorme Non si dorme Stasera domani è festa Ma che festa È il persecutore No no Ursti No Quanto l'hanno fatto Cazzuto Quanto l'hanno fatto Cazzuto questo boss Aia Allora Alex voleva Questa reazione Più quella della cosa interessante Però mi sa che Vendrà solo questa Sai cosa ti dico Mi farò uccidere Da questo boss Per vederlo Ancora E ancora E ancora E ancora Chip Tanto non devi essere Non devi farti uccidere Ti uccide Punto e basta Sì Sì Lo so Mi dai il tempo di baffarmi Giusto così Per curiosità Sei ancora Debole al fuoco Stai lì Stai lì Niente Deve Io non voglio dirti di sì Perché non ne sono Totalmente sicuro Ce l'ho fatta No no A sconfiggere lui Ok Dai Tu sei baffato Di fulmine E io di fuoco Nel fuoco Escilo da Sono gli occhi Fuori dentro i miei Ma no Pezzo di merda Pensavo di averti Sbilanciato Stai lockato Fatto robe Invece un cazzo Pericolo Molto pericolo Vedo che distrugge Ma è anche È venerdì Ce la facciamo Ok No Che cazzo è Sagrata dice che questo qua è facile come boss ed è uno di più fan Però Ma mi buttano robe Porca Porca C'è È troppo figo Non ho lo spazio per curarmi Non ho lo spazio per curarmi Se mi fa di nuovo con la stacca muoro male Sono morto male Io voglio sapere chi cazzo è che mi lancia se schifezzo dall'alto Hai chiesto che quando sei entrato nel boss fight c'era una di quelle cose bruttissime Che volano nel cielo? Sì Ecco Giusto Ma ho sentito la testa di un gatto spaccarsi contro la scrivania Ma che cazzo Povero Poverino Ok 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 Bevete e state Ok Il signor Vinny che non si è fatto vedere No Alex è divorato il cedro Che? Eh? Ma il gatto è modalità bersa Che cosa? Ma non lo so stava tipo vibrando Cosa stava facendo? Mi consiglio della zona in cui farmare? Dipende Una delle zone migliori è Danor Lindo Veramente? Indubbiamente Eh sì Considera che ogni cavaliere con i giusti anelli e il giusto equipaggiamento ti può dare 4500-5000 anime alla prima run Quindi Gli ammazzo poi di volte Secondo che quello è uno dei posti migliori Dai ma quante figlie Allora Io con Non mi ricordo Mi sembra che gli facevo 285 Con Come si chiama il gatto? Si chiama Luna Lo vuoi vedere? Eh? Eh Luna? Eh Luna vieni Allora dall'aggarde Guarda l'aggarde Editi Ah no vabbè Forse non ci sia ancora arrivato Eccola qui È Luna Di Saluta gli amici telespettatori No? Boh Non vuoi salutare? L'aggarde Ma eccola Eccolo Girati un po' di là Di qua Di qua Vedi? Ma non ve lo vedete Porca vacca Ho fatto un attacco strano Cosa? Eh? Hai visto? Di Miau Non lo dice Miau? Ah profumi di pulito Tiè Ma no ma basta Mi è partito un attacco Cip Due? Ok Ah ecco Stavolta mi incanto Di magia Cip è la mia da Venghi venghi Ah ecco chi è il bastardo Che lancia le robe Aia No con Comunque Cip Dovrebbe essere Abbastanza Debole Contro gli attacchi Di fuoco Si Ho notato che gli faccio Meno danno Come passate Gli sono passato Sotto l'arma Che culo Non credo che sarò Ancora così tanto Fortunato L'unica cosa Ah ma dai L'hanno totalmente cambiato Dall'Orstein originale Però è troppo figo Hanno fatto benissimo Si ma Orstein originale Orstein originale È bello Ma questo è veramente Bello 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 Capito È molto Che non c'è L'armato Di questo boss È un peccato Ma non dire Dai Oddio Eh Cip Tanto Avresti scoperto Comunque No No Che fa l'attacco Ma Dio Ho schiacciato Per schivare Alzati No Ma sei morto Cip Sì E tra l'altro Hai perso le anime Ma L'avevo già perse prima Ah sì Non mi ricordo Vabbè Ma non ti ha neanche fatto Alzare Cip Eh no Quando escono i DLC O ci di corridoio Dicono a ottobre Ottobre e novembre Però Non si sa Non è certo C'è una cosa C'è una cosa C'è una cosa C'è una cosa C'è una voci Di multiplayer E poi Siti là Oh madonna Scusate Eh niente Mi tocca Rompergli il culo Ma proprio secco Ma di brutto E che 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 I boss All'inizio C'ho paura Perché vedo Che Poi arrivo al punto Che non me ne frega più Un cazzo Di vedere il moveset Che Attacco E va fanculo Finisco la stamina Divento un Semi tank Praticamente Prendo schiaffi in faccia E ne do Praticamente Diventi Vado in modalità Serberg Non rida di me L'ho attivato No ma non sto ridendo di lei Lei ride di me Lei è colpa della maschera adesso Allora Non so se mi fa più danno fisico O più danni dal fulmine 50 50 Ah Controlla l'armatura Perché mi pare Che Il danno sia più nello stesso Vabbè sai che ti dico Lo schivo E via Ho qualche anello Che mi può però Avantaggiare Ma poi scusami Tu tecnicamente hai Vabbè che non lo usi Però avresti lo scudo Sì Ho visto Quello che Mi protegge dal fulmine Ed è per quello Che te lo danno Visto che non era Totalmente inutile Eh vabbè Però non l'ho potenziato Allora io avevo trovato Un anello Che aumentava Eh Tipo L'anello di Lothrek Eccolo qua Aumenta PV Energia Carico massimo Lo mettiamo Lo mettiamo al posto Della nero Della principessa Che tanto Il recupero Dell'energia È veramente Stupido Poi vabbè Proviamo Però non mi paro Tank Il problema è quello Io non mi paro Cioè non lo uso Sì 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 no ma infatti Ma infatti prima ho detto Potresti metterti ma tanto Tu non lo uso Scudo Esatto Prima Mi baffo prima Usa Anello di Prima Brando il problema È che l'anello di Scudo Purtroppo Devono sistemarlo Perché non funziona Così bene Cioè I livelli alti Raggiunge Quando sei Praticamente nudo Se tu hai Un minimo di Armatura È un po' È un po' Stupido Comanello Ma va a fare Un culo Io ho fatto il gioco Nudo con la mia Asa Akira Che è? Cos'è? Un'ascia è la Asa Akira Anche Si Nasce Una Una katana No Non mi pare Ci sia una Ma solo io Non so di cosa Sto parlando Con quel nome Non ho capito Cazzo Non avevo visto Ah però l'ho colpito Attenzione Ok Mi curo Va bene Riprendiamo pure lo scontro Sì 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 Vabbè Un po' troppo poco Non crede Oddio Ok Che cazzo è Lanciano robe Lo sapevo Che facevo la cazzata Sono lontano Sono lontano abbastanza Ti prego Dimmi di sì Sto inizi Sto iniziando a scappare Brutto figlio Ma l'ha ucciso Quando inizio a scappare Muoio Posso avere 12 fiaschette E a lui manca un colpo Ma nel momento in cui Nel momento in cui Io inizio a scappare E perdo il controllo Della boss fight Io muoro 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 Vabbè Lì purtroppo Ti ha fregato Il fatto che L'attacco che fa È quasi a 360 gradi Quindi Ti ha beccato in piedi Sto facendo Stretching Ginnastica Io adesso Io adesso ci vado sul serio Su Google A cercare A cercare Perché No Non è possibile Che sia un'arma Non me lo ricordo proprio Sto boss Sta Per morire male Sta per morire male Questo boss Mamma mia Città Sì vabbè Vabbè Voi potete anche andarvene A fare Negli zebedei Guardate C'è proprio Il problema è sempre quello Quando inizio a pensare Che devi curarti Sì 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 Esattamente Buonasera Buonasera signor Missing Il signor Missing Esordisce con una frase Che ha veramente 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 La mia Piena appoggio La mia piena comprensione Anche perché Su tutti i cazzoli Sos Che ho giocato Tutte le volte Che io Perdevo il filo Del combattimento Lo stavo massacrando Lo stavo massacrando Cos'è successo Mi sono fatto Spaventare Mi sono fatto Solo spaventare Ho iniziato A trangugiare Fiaschette Manco fossero Veramente Dei barattoli Di miele Porca troia Manco fossero Io che Bu 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 Io Nico Say my name Ma perché Per me gli scudi Sono inutili Metti anello Fin Più anello Che fa Più danni A vita massima Il problema È che non ci sto mai A vita massima Anello di Fin Ma vabbè Madonna quanto Framerate Ma dipende Dalla build Che ti fai Anche Brando Perché a seconda Di quella Che ti fai Se Per esempio Preferisci Fare Molte attacche Consecutivi Gli anelli Dal Come si chiama L'anello Sinistro e destro Del sacerdote Insieme Sono una Boba Assurda Allora Pochi possono capire E cip e tre Eh sì Di me Io uso lo scudo No io non ce la faccio È un rifiuto Che ho Mio Mio di me Porca troia L'ho mancato L'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso Mi ha preso L'ho mancato Mi stava per prendere Mi curo Mi ha mancato L'ho preso No Che fa l'attacco stronzo L'ho preso Cazzo Ok L'ho preso Mi ha preso Mi curo Si aspetta la spada Mi ha preso Mi ha mancato Ho preso lo scudo Aia Lo scudo ha preso me Non so che attacco fa Mi curo Non so che attacco fa Avete finito di rompere Il cazzo là sopra Dammi il tempo Di curarmi Che ti spacco il culo No Eh, figli di putta No, muoio Porca troia Adesso inizio a bestemmiare Posso iniziare a bestemmiare? Ditemi di sì Si scandalizza qualcuno se bestemmio Non ce la faccio abbatterlo se non bestemmio Un buff sprecato Sprecato Completamente Ho preso lo... No, non ho preso lo scudo Comunque ci sono... Non riesco... Non riesco a combatterlo Non ries... Guarda! Non scrivo più un attacco Uno che sia uno Ma non pararti No, perché ho fatto sta cazzata Ma vabbè Immaginavo Ultima fiaschetta No, neanche Sono morto però Dove è andata la sigaretta? Eccola Evocano MPC? No, mai nella vita No Il signor Cip non... Non gli evoca mai MPC La prima run... L'ha preso con lo scudo L'ha preso con lo scudo Altrimenti non sarebbe mai morto Sì, no, ma ad un certo punto Ho proprio iniziato a sbarellare Non riuscivo più a schivare un attacco Io non vorrei... Non vorrei dire Ma prima hai fatto Cazzo, l'ho preso Va bene Cosa? No, non ho capito Prima hai fatto... In mezzo del combattimento Quando stavi dicendo Schivato Preso Schivato Non mi ha preso L'ho schivato Eh, hai fatto Cazzo, l'ho preso No, ma... Che poteva essere bello... Poteva essere preinteso Oltre che ha preso Ho preso lo scudo Lo scudo ha preso me Potrebbe diventare un highlight Di giochi di parole No Tarkhead? Perché c'è Tarkhead? Chi... Non siete qualcuno che si chiama Tarkhead? Preparati... Preparati a vedere Ridare in chat Immagino Boss 4 Sbaku 0 Ma dai Ma vaffanculo Oh, ero convinto Di averlo fatto scendere Sto ascensore di merda Oddio Ma perché non c'era L'ascensore? No, vabbè Adesso mi devono fare un disegno Di... Perché non c'era Aspetta Non uso Adesso mo ci mette Otto anni A scendere sto ascensore Questi qua mi rompono il cazzo Oddio Muoio, muoio No, io muoio Non tu Lo sento Sta correndo verso di me Ah, il sacerdote mi ha visto Lui no Per me ha dei viaggi Sono aperte le scommesse Dai Quanto ci vuole Però Madonna Con quanta istintiva Reazione Questo ascensore Quante umanità ho Ancora Ok Ho quattro effigi Adesso ho tre Dopo di questa Buonasera signor Enni Come la va? Ma dai Ma cazzo Io l'avevo fatto scendere Sto ascensore di merda Perché non era sceso? Mo Devo assicurarmi Prima Frame rate Ti prego aiutami Ok Stanno piazzando le scommesse Quante volte morirei contro il boss? Sono morto Quattro volte? Cinque no Perché la quinta non si conta Allora Fammi liberare un attimo l'inventario In effetti Non è morto contro il boss Ma è morto In maniera più stupida Mi sta dando dello stupido Eh fai bene Perché È quello che è successo Umanità E figgia che gioco stai giocando Mauro Sì 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 Vabbè Avete capito tutti Dai Ma vaffanculo Buonasera Daniele Buonasera Quanto mi è andata bene Non puoi capire Aia No Adesso mi è andata male Mi curo Eh dai Ma io non riesco a provvedere Quell'attacco lì Cazzo Non è vero Non è vero Non è vero mai Che l'hai fatto Ah neanche questo Riesco a provvedere Neanche questo Questo ero abbastanza lontano Ma cosa Ma cosa Non ero ne Dai che raggio di azione Acqua Alla cazzo di attacco Porca La puttana Eh grazie Grazie Raggio della spada Grazie mille Mi sei stato molto d'aiuto Ok Meno male che non ero vicino Perché mi avrebbe fatto malissimo Oh no Oddio Questo è culo Questo è stato veramente culo Credimi No Quanti attacchi Dov'è ancora arrivare Dici Scudo Scudo Aia 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 No scudo No 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 Vai a fare in culo Vai a fare in culo Cosa Ma Non ci credo Non ci voglio credere Ma no Ma no No Ti prego No Ma cosa Ma cosa Ha successo Cosa Buonasera Gestalt Tra l'altro Ci abbiamo un nuovo follow Ma come Eh si Non te l'ho voluto dire Perché in mezzo alla boss fight Per il potere di Granskull Grazie mille Brando Brando Vaffanculo Vaffanculo Questo sarà un'altra highlight Non è possibile Non è possibile Vaffanculo Ma come che culo del cazzo hai vinto Ho vinto Poi Sono stato buttato giù da robe non distinte Buone scelte Ma Signor Duncan Mi dice che ho problemi di lina di Nat Con lei Ma come è possibile Niente Mi sa che non sentiremo più il signor Tankedmo Andiamo solo a recuperare queste anime Buone scelte Buone scelte Come le vede Sì sì Mi ha dato Mi ha dato l'anima Adesso Dovrebbero esserci anche le mie anime Là sopra Spero Cioè questo Una sfiga del genere Non mi era mai successa Ok Oh eccole lì le mie anime Eh sì Ha ricomposto tutto 64.000 Yeeeh Falò Sì lo so Signor Tanked Se c'è di nuovo No No Please No No Ok Io direi che per stasera Sì mi sente Sì adesso Adesso sì signor Tanked Sì no Ho avuto un problema Mi diceva Che c'è stato un problema Con il Ho provato a uscire Di rientrare nel party Non ho capito Comunque non è possibile Avere così tanta sfiga Eh Effettivamente Vabbè Le anime te le ha date Comunque dai Sì sono venuto qua A recuperarle Che poi non ho capito Perché Ho visto che la barra del boss Era rimasta Ho detto no Non mi dire che era ancora vivo Mi ha dato una scudata Mi ha buttato giù Io non ho capito Che cazzo fosse successo No perché Ma Tanti quanti ti ha incertito La Farfalla Come lo posso chiamare Demone Non lo so Demone volante Tra l'altro Altre cose molto simili Di una boss fight Di Demon's Soul Giusto per Continuare a carcare Sull'argomento Demon's Soul Quale boss fight Era una boss fight Volante C'erano Sti grobi Che sembravano Delle murene Volanti Che ti lanciavano Sì Quelle murene La È presente Yorm Sì Ecco Le uccide Con la stessa spada Ecco È da quello Che era tratta La spada Ecco Perfetto La spada Che trovavi in quell'arena Era Ti serviva per Uccidere quel boss E quel boss Solamente Perché all'info Nel resto del gioco Era Una cippa lippa Ah ok Comunque ciao Dom Sei arrivato Buonasera Non so com'è Che siamo ancora in live Forse perché dovevo Uccidere il boss Buonanotte ragazzi Buonanotte Adesso stacchiamo anche noi Perché è diventato tardi Io il signor Tank De lo sto facendo Impazzire Poverino Ma no Ma figurati Figurati La mia signorina qua Mi ha portato il caffè Molto gentile Ma la Ma come non la ritrovi Hai perso il gatto Luna Non è che sarei mangiata nebbia Nebbia Hai mangiato l'una Cattroia C'è un coniglio Che Invece di essere Coniglio nano È Tipo Grosso così Se ricordi di accettare La richiesta Era uno spuntino Sono rientrato Porca Buonanotte ragazzi Mi raccomando Passate Sul canale Del signor Tank La live Accedo tutte le amicizie Adesso Come stacca la live Tranquillo Anche io Anche io Infondi l'arma Ma mi toglie gli scaling E Intanto ne approfitto Per sfamare Il mio canale E la pagina facebook Non avendo fede Fede intelletto alte Non penso che mi convenga Adesso Infondere un'arma Perché Non avrei niente Su cui far scalare L'infusione A meno che Non metto In realtà L'infusione da fuoco Non scala su nulla Quindi Ma come Niente Fede intelletto Quella più bassa No 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 a quanto pare No Ah buono Buono a sapersi Perché Va bene ragazzi Io vi ringrazio Vi saluto E Vado a caricare Fare l'highlight Se la fai raffinata Scala meglio L'arma chip Sì Avevo visto Una roba del genere Sì Sì Quindi dovrò Infonderla comunque Di qualcosa Dovrò fare robe Va bene Dai Ci si vede No Domani no Lunedì Lunedì ci si vede Ciao ragazzi Ciao Ciao Buonanotte ragazzi Buonanotte ragazzi